Certamente non è piacevole poter dire che abbiamo vinto il derby numero 100, che è una cosa che magari me la ricorderò per tutta la vita ed è una soddisfazione per tutti noi, però essendo realistici dobbiamo dire un'altra cosa, questa squadra ha continuato sempre a lavorare bene con serietà, con determinazione, abbiamo tutti dei momenti chiaramente difficili per infortuni, per vari problemi e oggi finalmente è il primo giorno che giociamo con la squadra, è la prima partita che facciamo dopo 8 con la squadra più o meno al completo non siamo ancora, ahimè, fisicamente al 100% con alcuni giocatori, stanno migliorando e questa è una soddisfazione perché ho cominciato a vedere i giocatori recuperati fisicamente e che entrano nel tipo di idea di squadra che avevamo all'inizio e soprattutto che fanno parte di un gruppo con una chimica che cercavamo di benizzare, questo ci dà positività ovviamente la cosa importante per una squadra come la nostra che forse ancora ci deve trovare in attacco alla chiave di puto e difendere questa sera, ha molto buone cose e basta, adesso pensiamo a martedì ma che vedremo a giocare a Mosca e comunque la cosa più importante mi auguro che gli infortuni che abbiamo visto un po' di Jenkins e spero che Spencer sulla schiacciata non si sia fatto nulla e spero appunto che fisicamente tu ti recuperi al 100% che è il mio vero problema che sono lì